Amici di Marcosbox, benvenuti in questa 47esima puntata del podcast di Marcosbox. Come sono andate queste vostre piccole vacanze natalizie? Spero bene, spero vi siate divertiti, rilassati, avete mangiato a sufficienza con le vostre famiglie, con i vostri amici e quant'altro. Se siete del sud come me sapete bene che questo periodo significa mangiare mattina, mezzogiorno e sera con un pasto praticamente quasi unico per tre giorni. Un tour de force che noi del sud, soltanto noi del sud sappiamo che cosa significa ed è una tragedia in questo periodo. Non voglio vedere più dolci per i prossimi dieci mesi, penso. Comunque, iniziamo la settimana parlando del piccolo regalo di Natale che è stato fatto da Epic Games a Krita. Krita, il software pittura digitale, editing di immagini e quant'altro, che fa parte della famiglia di KDE. Bene, Epic Games, la famosa software house che ha creato Fortnite, come parte del suo programma chiamato Epic Mega Grants, ha deciso di supportare lo sviluppo di Krita con una donazione di 25.000 dollari. Non è la prima donazione che Epic Games fa a progetti open source. Non so se vi ricordate, lo scorso luglio vi avevo parlato della donazione di ben 1,2 milioni di dollari a favore dello sviluppo di Blender. Fa molto piacere che Epic Games sia così attenta a progetti open source, che molto probabilmente utilizzano anche loro, ecco perché c'è questo sostegno. E fa piacere anche perché i team di sviluppo di questi due programmi sono riusciti a creare nel tempo dei software apprezzati in diversi settori, così apprezzati da portare anche a donazioni da parte di software house che non hanno nulla a che fare con i software libero open source. Quindi complimenti a Epic Games, complimenti a Krita per questo traguardo raggiunto. Speriamo che arrivino anche altri finanziamenti in futuro. Restando sempre in ambito KDE, questa settimana c'è stato il rilascio di Kdenlive 19.12. Questa versione include molti cambiamenti sotto al confine, nuove funzionalità come di consueto. Sono passati 4 mesi dal precedente rilascio. Le correzioni che sono state fatte riguardano principalmente in miglioramenti delle prestazioni, con una timeline più veloce e fluida, un nuovo mixer audio, effetti master audio e video, e una migliore visualizzazione della forma d'onda d'audio. Oltre a queste consueti correzioni di stabilità e usabilità, ci sono anche aggiornamenti di traduzioni e quant'altro. Che dire, complimenti anche al team di Kdenlive, perché è un programma che continua il suo sviluppo, continua ad essere apprezzato da diversi utenti, sia per progetti amatoriali che per progetti un po' più impegnativi. All'inizio può sembrare un po' difficile da utilizzare, ma smanettandoci un po' si riescono ad ottenere dei buoni risultati. Io utilizzo Kdenlive anche su Windows, perché c'è una versione nativa per Windows che gira una meraviglia anche su Windows. Restando in ambito Kden, ho pubblicato poi una piccola guida che spiega come aggiungere ad Ocular i visualizzatori di documenti predefiniti di KDE, il supporto all'apertura degli formati EPUB. Alcune distribuzioni, come ad esempio KDNEON, non preinstallano più il plugin necessario affinché Ocular possa gestire gli EPUB nativamente. Per risolvere questo problema bisogna installare questo plugin, questo pacchetto aggiuntivo, su Marcosbox trovate le istruzioni su come fare per installare questo pacchetto aggiuntivo che aggiunge supporto a YEPUB a Ocular. Restiamo in ambito poi Linux con una notizia triste, triste per diversi utenti all'ascolto, tra cui il sottoscritto, da South Systems, o come diavolo si pronuncia perché io e il francese siamo litigati alla nascita, ha annunciato il rilascio del terzo e ultimo service pack della versione 2019 non vedo il suo CAD, multiplattaforma per Windows, Mac, Mac OS e Linux. Perché è triste questa notizia? Beh, perché se andate sulla pagina relativa al download della versione dell'ultimo service pack, insomma, di DraftSeed 2019, non vedete più la scritta scarica versione per Linux. All'inizio ho pensato a un qualche problema relativo alla pagina che non era stata ancora aggiornata, anche perché andando poi a ricavarmi il solito URL, quello diretto, per poter scaricare DraftSeed, ho visto che era possibile comunque ancora scaricare la versione in formato DEB e quella in formato RPM, quindi con il link diretto. Quindi queste versioni sono comunque presenti sul sito internet di DraftSeed, o meglio, sui suoi repository. Poi, andando a cercare le note di rilascio di questa versione, sono entrato nella community di DraftSeed, e ho visto l'annuncio nel quale viene annunciato che la versione beta di Linux verrà ufficialmente concluso, il programma beta per Linux verrà ufficialmente concluso il 31 dicembre del 2019. Il team di DraftSeed, a quanto pare, sta lavorando verso una soluzione cloud in modo da poter utilizzare in futuro DraftSeed tramite browser, quindi indipendentemente dalla piattaforma in uso. Come si evolverà la situazione? Non lo so. Non lo so perché, appunto, come vi ho detto, sui mirror ufficiali di DraftSeed è comunque possibile recuperare il link diretto alla versione 2013 e 2019 SP3 che ho installato e quindi riporta anche la dicitura 2019 SP3. Non so che cosa accadrà il 31 dicembre del 2019. Se questa versione smetterà di funzionare tramite un aggiornamento remoto se magari ha un timer preimpostato affinché venga disattivato il suo funzionamento anche se non penso perché è stata rilasciata adesso quindi che senso avrebbe comunque caricare la versione NAB RPM sui repository se poi questa versione non funzionerà, cioè avrà vita brevissima. C'è puzzo perché, appunto, non è stata ancora aggiornata la pagina relativa al download per Linux sul sito ufficiale, quindi ipotizzo che questa decisione è stata presa all'ultimo minuto, quindi hanno deciso di cassare completamente la versione per Linux, l'avevano fatta ma hanno deciso di interrompere preventivamente il supporto quindi non si sono nemmeno presi la briga di aggiornare la pagina per questo motivo. Vedremo comunque che cosa accadrà successivamente se avete modo di salvarvi l'installer in formato Debo e RPM scaricatelo e salvatelo da qualche parte poi vedremo nei prossimi giorni appunto come si evolverà la situazione per noi utenti Linux. Infine, ultima notizia della settimana che non è una notizia è un editoriale di Luca dal titolo Possiamo installare Linux sul PC del lavoro? Andate a vedere le sue considerazioni, le considerazioni quelle che derivano dalla sua esperienza personale e fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi avete avuto esperienze simili o percorsi simili, insomma. Bene, con questo concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. ci riascoltiamo con il podcast di Marcos Box il prossimo anno perché oramai l'anno è finito quindi un augurio sincero di buona fine e buon inizio anno che sia per voi finalmente l'anno della svolta se avete avuto problemi negli anni precedenti ma sia anche la conferma per chi ha avuto anni positivi. Ogni cosa buona a tutti quanti indipendentemente dalla situazione pregressa e che finalmente quest'anno sia l'anno di Linux sul desktop anche se lo dico ogni anno oramai ho smesso di crederci speriamo di appunto che ci sia qualche miracolo dell'ultimo minuto. Va bene. Ciao ciao, alla prossima. Grazie. Grazie.